se ci fosse stato come la leggenda cosa pei racconti c'è la leggenda non so io so che mi hanno raccontato rifugiati qua sopra ma poi venne il diavolo dopo aver cacciato via i monaci e poi fu distrutta durante la seconda guerra basta guardarli arrivare certo non mi voglio compromettere più con nessuno brava pezzo ma anche i cani questo è terrorista ma non è manco terrorista non ha sputato mai da quando stavo in pace ma non ti avevo compromettere azzù azzù che fai potresti evitare ma tu vivi in clandestinità che ne so io che fai tu azzù ma ci sta l'azzo azzù 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 azzù